Siamo dell'agenzia antidroga degli Stati Uniti. Le ordiniamo di atterrare. D'accordo, ragazzi. Atterriamo. Che cavolo fa? Mi chiamo Barry Seal. Questi sono per i danni, per tua sorella, ciao tesorino e per la tua bici. Alcune di queste cose sono successe davvero. Non mi avete visto? Primo della classe nella pattuglia aerea civile. Uno come te non dovrebbe portare gli autobus. Benvenuti a Miami. Benvenuti a Bakersfield. Non hai mai voluto qualcosa di più, Barry. Dovresti servire il tuo paese. Sei della CIA? Devi consegnare della roba per noi. Tutto questo è legale? Se lo fai per i buoni. Barry Seal è un maledettissimo genio. Sì! Sei un pilota di linea, Barry. È così che mantieni la famiglia. Sarà un vantaggio per noi. Ed è legale. Ti fidi di me? No! Ci stiamo espandendo, Barry! Rosco ha trovato questa scavando in giardino. Ci sono banconote che volano dappertutto. Le rastrello domattina. E.D.F., accettate le armi! Armi, droga, riciclaggio di denaro. Sapete che le caddie laccano il bagagliaio più spazioso di tutte le altre auto? Vi compro una caddie ciascuno per il disturbo. Perché tanto uscirò da qui. E voi non potrete farci proprio un bel niente. Lei è libero. Aspetti un momento. Provate a accettare le caddie? Lavoravo per la CIA, la DEA e Pablo Escobar. Mi 500 kilos. Sono 1.500 kg, Barry. In un colpo solo. Lo fai. Non c'è discussione. Avanzo i grigoli! Avanzo i grigoli!